Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video! Allora ragazze, oggi vi devo parlare del mio parto è un video che mi avete richiesto in tantissime ma prima vi devo parlare di questa la mia super merenda con le gallette e la crema proteica di Fitvia più il tè di Fitvia perché voi lo sapete che io ho sempre utilizzato i prodotti Fitvia ma in particolare durante la gravidanza e anche dopo il parto proprio per rimettermi in forma adesso mi sono fatta il mandarin e vi voglio dare un super consiglio perché in tantissime mi chiedete sempre come fare per tornare in forma quindi se anche voi avete partorito da poco o comunque anche se siete incinti io vi consiglio il Super Mamma Set che a me mi ha aiutato tantissimo sia durante la gravidanza perché ci sono tutti i tè che potete prendere senza teina eccetera e prodotti che vi aiutano nelle merende, snack sani eccetera e da abbinare al set delle caps dopo che partorite quello la vi aiuta tantissimo proprio a dimagrire, a perdere peso e a drenare un sacco il mandarin è buonissimo adesso me lo sorsiggerò per tutto il tempo con voi è buonissimo ragazze e in più con la crema proteica al cioccolato mi sono preparata le mie gallettine è una cosa che faccio ogni giorno tipo merenda così le adoro sono buonissime potete anche usare il pane di segale troppo buona questa ha pochissime calorie come crema alla nocciola ed è buonissima ha degli ingredienti molto molto sani quindi ve la sto consiglio in più avete anche il mio codice sconto carlita saldi 40 con cui avete il 30% senza spesa minima su tutto il sito 30% di sconto se superate 59 euro di spesa avete il 35% se invece superate 99 euro di spesa avete ragazze il 40% di sconto quindi praticamente pagate quasi tutto a metà prezzo quindi ovviamente vi consiglio di fare una bella scorta di modo che avete il 40% di sconto tanto questi prodotti una volta che iniziate ad utilizzarli vedrete così tanti benefici sul corpo che vi amerete e vi innamorerete buonissimi comunque adesso me la sorsiggio questa qua così approfitto è buonissimo sa di mandarino ed è buono e ci sta tanto bene con le gallettine adoro e questi sono i due set che vi straconsiglio super mamma set in cui c'è anche la battolo rosa da cui sto bevendo io ora il mandarin che mi sono preparato ed è buonissimo vedete sono tutti aperti perché io li utilizzo ogni giorno lemon ginger al mattino e mandarin il pomeriggio sono favolosi poi ci sono i cioccolatini dentro quelli là proteci poi c'è questo che è un super biscottone proteico tipo cookie adoro e poi c'è la mia amata crema al cioccolato quindi come vedete ci sono tutti i prodotti che si possono utilizzare sia in gravidanza che dopo quindi proprio per adrenarsi dopo il parto e sgonfiarsi e ritornare in forma e in più a questo set ci aggiungete anche il set delle caps così completate proprio la vostra routine per tornare in forma qui ci sono le caps da prendere di giorno con la garcinia che vi aiutano a dimagrire e quelle per la notte prima di andare a dormire che velocizzano il metabolismo e vi aiutano a bruciare grassi durante la notte io questi ve li straconsiglio vi metto il link nei box informazioni perché avete col mio codice sconto fino al 40% di sconto ovviamente più spendete e più risparmiate una cosa in assoluto che mi salva proprio la vita le merende e tutto è questa qua la chocolate protein cream di fitvia adoro ogni pomeriggio ci faccio merenda accompagnato ovviamente al tè ne metto una ventina di grammi su due gallette se guardate che meraviglia anche nutrizionisti la consigliano perché è veramente fenomenale light e perfetta come merenda adoro questa vi salverà la vita approfittate adesso che la pagate al 40% di sconto quindi quasi la metà fatene scorta questo che vi ho dato di questi set di prodotti fitvia vale per tutte le mamme le neomamme ma anche per le ragazze che semplicemente vogliono rimettersi in forma in vista dell'estate quindi approfittate per 40% di sconto è veramente un bello sconto i questi prodotti li amo veramente mi aiutano tantissimo quindi tornando al mio parto ragazze voi dovete sapere il mio parto cioè avevo detto su instagram ho detto ragazzi io inizierò il video dicendo ragazzi partorire non è una passeggiata partorire è difficile però devo fare due premesse allora la prima premessa è che sotto lasciate un pollice in su perché se faccio questo video è perché veramente me l'avete richiesto in tantissime e mi dovete incoraggiare perché per me ancora adesso è traumatizzante parlare del mio parto anche a differenza di quasi 5 mesi perché Daniel ha quasi 5 mesi tra pochi giorni e poi la premessa prima è che io non ho nulla contro le ostetiche ginecologo dottori tutti anzi li ringrazio tantissimo che se non fosse stato per loro anche se comunque è stato traumatizzante probabilmente Daniel non sarebbe mai nato che comunque ci sono state molte complicazioni e comunque ringrazio cioè non mi interessa di nulla l'importante è che adesso lui sta con me sta bene è sempre stato un bambino sano solo quello per me conta ecco questa è la seconda premessa viene proprio automatica cioè nel senso ragazzi ogni parto è a sé io non sto qua per spaventare nessuna se siete incinte spegnete questo video e non lo guardate anche perché io sì pensavo fosse difficile però non ho fino a questo punto quindi spegnete e non lo guardate e quindi non voglio spaventare nessuno ogni parto è a sé ci sono anche ragazze che hanno avuto tipo parti come il ciclo secondo me si sono dimenticati però vabbè non lo dico non lo dico non lo dico come il ciclo già so come lo scriverete in tante però a me interessa leggere le vostre esperienze quindi scrivetelo nei commenti e è soggettivo quindi anche la stessa donna se partorisce dieci volte non sarà mai lo stesso dolore non sarà mai lo stesso parto quindi prendete la mia come una un'unica esperienza su un miliardi che possono essere invece positivi e completamente diversi dal mio questo è importantissimo e l'ultima premessa che faccio ve lo giuro e poi parto e che poi parto no vabbè partorire è difficile partorire traumatizzante anche il parto più complicato più doloroso e più brutto ne vale sempre la pena perché io per Daniel lo farei lo partorirei anche ogni giorno perché comunque la gioia di averli è così immensa che ti ripaga di tutto quindi sì 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 ne vale la pena assolutamente sì però mi nervosisco del fatto che i papà hanno i bambolotti belli e fatti questo fatto a me mi fa nervosire ragazzi si devono vergognare vergogna perché loro non fanno nulla cioè praticamente hanno i bambolotti belli e fatti e noi dobbiamo soffrire basta questa cosa mi fa arrabbiare ragazzi nel frattempo ma no ma non dovete sapere quanto è buono cioè in questo tempo io lo amo mandarin adoro vabbè comunque ragazze allora tutto inizia quando pochi giorni prima di partorire io ho dei dolorini delle contrazioni che non sapevo fossero contrazioni fin quando dopo due giorni ho partorito però avevo questi dolori che tutti quanti non lo so se non farmi preoccupare eccetera mi dicevano ma si è normale erano circa 10-15 giorni prima del mio termine quindi dicevo ma è strano sono strani questi dolori perché poi non ho mai avuto contrazioni durante la gravidanza e quindi io praticamente ma cose ma cose io sto troppo male mi ricordo che una sera andai al ristorante e passai tutta la serata cioè ogni tipo un quarto d'ora io ce l'ho questi dolori che mi tirava tipo un fuoco tipo come dolori mestruali però un po' più pungenti non so spiegare perché paragonare a dolori mestruali secondo me no non sono dolori mestruali però si dice quello per far capire ma non sono così è tipo un fuoco che ti senti e tu vabbè comunque io praticamente questi dolorini questi dolorini ma che cose ma che cose fin quando praticamente dopo 2-3 giorni se vi ricordate io feci il video il mukbang in cui praticamente svilupperò le acque è successa davvero questa cosa cioè praticamente terminato il video io mi alzai per spegnere la videocamera se vedete il video c'è proprio questa testimonianza scritta questa testimonianza registrata e mi trovo tutta abbagnata quindi io cosa faccio tutta abbagnata io il panico però non avevo dolori nulla e io dico oh mio dio ah no ma questo era successo prima vabbè questo era successo prima di queste contrazioni 2-3 giorni prima io dico oh mio dio vado in ospedale vado in clinica e lì praticamente c'è una persona che mi visita che non è mio ginecologo mi controlla e mi dice che non si era rotto il sacco quando si rompe il sacco è molto pericoloso perché il bambino non è più protetto quindi bisogna fare anche un antibiotico lui mi assicurò che non fosse rotto invece secondo me era rotto poi vi faccio capire perché comunque lui mi fa delle visi delle manopre oh mio dio ragazzi quella notte a farmi controllare questo è quello che vi voglio dire finché non sentite dolori fortissimi che state per partorire statevene a casa sentite a me perché veramente fanno delle manovre e delle cose proprio vabbè comunque da allora che questo benedetto mi mise le mani dappertutto mi visitò eccetera io da allora ebbi questi dolori queste contrazioni e ogni tanto mi bagnavo infatti mi ricordo stavo a casa di mamma all'improvviso mi bagnavo correvo in bagno mi cambiavo quindi ogni tanto io mi bagnavo perdevo acqua però lui mi assicurò che non era rotto il sacco comunque per non portarvelo a lungo io arrivai l'ultima notte che feci una nottata di dolore infernale dovevo capire che qualcosa stava succedendo perché tutta la notte ho la passata in sveglia con dolori fin quando la mattina questi dolori diventavano più forti io dissi no amore a Dario dissi dobbiamo andare all'ospedale perché secondo me qua ci siamo o qualcosa anche se erano dieci giorni prima del termine vado all'ospedale mi visitano e mi dicono che il sacco è rotto io sento fra di loro che loro poi non ti fanno capire nulla io sento loro che parlano è rotto e le dice l'ossete che è rottissimo quindi io penso che il sacco era già rotto da un po' e che loro vanno a farmi preoccupare non me l'abbiano detto infatti mi hanno fatto anche la terapia antibiotica quindi praticamente ho fatto un parto tipo asciutto perché comunque a me non usciva nulla adesso vi spiego comunque mi vado a ricoverare vado nella mia bella stanza in clinica mi vado a ricoverare e iniziano le contrazioni iniziano le contrazioni la mattina verso le dieci le undici arriva mia mamma c'è Dario loro in stanza mi aiutano fin qua tutto ok per le prime due o tre ore tutto ok perché riesco a gestire il travaglio e praticamente anche questo voglio dire quello che ho pensato e che poi alla fine non era vero è che all'improvviso ti venivano queste contrazioni fortissime e tu capivi che era il travaglio e invece non è così perché a me praticamente quelle stesse contrazioni e quei dolorini che due o tre giorni prima erano iniziati si amplificavano sempre di più sempre di più e quella mattina io non so proprio davvero a che ora mi è iniziato il travaglio ma secondo me io già stavo in travaglio perché questi dolori man mano diventavano più forti però comunque io fino a tipo alle due del pomeriggio riesco a gestire bene questi dolori perché sto nella mia camera ogni tanto viene l'ostetrica a controllarmi un tanto fanno le ostetriche ci sono quelle che lo fanno con molto umanità e quelle un po' meno insomma non voglio esagerare però è così come in tutte le cose in questi lavori in particolar modo quindi mi controllano le contrazioni e vedono che man mano le contrazioni aumentano diventano più intense eccetera c'è mia mamma che mi ha aiuto a gestire il tutto quindi a respirare perché ogni piccola contrazione io volevo solo gridare scappare fare chissà cosa e mia mamma no 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 devi respirare devi respirare quindi ogni contrazione che mi veniva io l'istinto di gridare alla fine respiravo e quindi andava bene respirare è importantissimo ok tutto ok fino più o meno all'1 alle 2 tutto ok fin quando non decidono di portarmi in sala travaglio ok decidono di portarmi in sala travaglio cosa sbagliatissima che mi è successa senza nessuno quindi io da sola anche un'altra prevista da fare io soffro tantissimo il dolore lo ammetto ho una saggio soglia di dolore molto bassa quindi anche questo è importante da dire perché è oltretutto io ho un problema anche di endometriosi quindi lo dico perché specifico tutto perché poi ovviamente ognuno è un caso a parte ho avuto anche un problema di endometriosi e io penso che i miei dolori siano stati forti anche per quello però vabbè comunque scendo giù in sala travaglio non mi fanno venire né mia mamma né Dario io quindi sola con questi dolori che ormai erano diventati lancinanti e diventavano sempre più forti neanche le ostetiche non c'erano io abbandonata anche perché c'erano altre due o tre ragazze che stavano partorendo una stava facendo riduzione un'altra vabbè comunque io abbandonata a me stessa quindi abbandonata cioè come così buttata là abbandonata come tipo un cane che sta per partorire così vabbè e ogni persona che passava ti prego aiuta io sto morendo io sto morendo non ce la farò però vi giuro è tremendo cioè il problema del parto non è soltanto l'espulsione ma sono le contrazioni cioè ogni contrazione che ti arriva è come un fuoco che ti parte più o meno dall'addome percorre tutto diciamo il canale fino ad arrivare dietro alla schiena questo il dolore è più o meno così anzi forse parte dalla schiena e arriva davanti comunque ti prende tutto un fuoco fortissimo dura pochissimi secondi ma è così forte che ogni ogni contrazione ti ti devasta praticamente quindi man mano che vanno avanti le contrazioni tu sei sempre più sfinita comunque mi fanno poiché praticamente io ero in pieno travaglio ma comunque loro mi visitavano mi visitavano praticamente il bimbo Daniel comunque non scendeva non scendeva quindi loro mi fanno mi fanno di tutto praticamente di tutto mi fanno l'ossitocina per stimolare i movimenti mi fanno vari malestetizzanti varie cose per sentire meno il dolore non lo so comunque mi fanno di tutto fin quando poi arriva il momento dell'epidurale perché io durante tutto il travaglio chiedo perché io avevo dato il consenso per l'epidurale quindi parto analgesia io chiedo per tutto il tempo di avere l'epidurale però loro non me la facevano adesso non so preciso magari ci sono delle tempissime tante cose non te le fanno capire comunque io chiedevo di Dario vi prego fatelo entrare loro nono perché io praticamente ero molto molto cioè una donna durante il travaglio non è proprio una bella visione quindi loro per non farlo spaventare non lo facevano entrare però è stato veramente bruttissimo per me perché io sono un carattere che quando soffro e comunque sto male se ho qualcuno vicino io riesco a affrontare meglio insomma invece in quel caso io veramente ho sofferto tantissimo perché proprio neanche l'ossetica cioè ti trattavano proprio sprezzanti erano poi a me non mi ricordo perché praticamente evidentemente qualche farmaco mi avevano messo perché mi avevano riempito di roba vabbè non so neanche cosa in quel momento seppure mi davano l'eroina si vai praticamente si seccarono tutte le labbra avevo una sete pazzesca avevo proprio le labbra completamente sicche e vi giuro che questa sembrava proprio di morire seccata cioè era una cosa tremenda e loro non mi davano da bere forse che non potevo bere però io veramente avete presente stare in un deserto tipo così vabbè comunque alla fine niente io sto cercando di andare veloce perché se no non finiamo più però comunque questo travaglio ragazze è terribile io sto male 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 poi magari ragazze scrivetemi nei commenti se volete delle domande magari me ne faccio un altro in cui rispondo proprio alle vostre domande quindi un po' meno generico più specifico adesso diciamo una cosa generale perché se no non la finiamo più vi bevo il tele nel frattempo cioè non immaginate io ho ancora i brividi a parlarne cioè davvero mi dovete credere una cosa che veramente cioè mi fa male e mi viene l'ansia cioè mi viene tipo un attacco di panico cioè fino a poco tempo fa adesso non più comunque ragazze praticamente io quindi arriva il momento dell'epidurale ok io pensando che fosse finalmente la mia salvezza oh mio dio grazie a dio finalmente non sentirò più dolore perché tu in quel momento è brutto da dire ma pensi soltanto che possa terminare questo dolore perché è atroce è una cosa che non non vi so spiegare comunque il dolore è peggiore più brutto del mondo che non pensi mai che possa succedere è lui il travaglio partorire quindi niente vado vado per farmi mi portano per fare l'epidurale in sala parto e per fare l'epidurale devi stare in questa posizione curva e praticamente in questa posizione loro praticamente da dietro devono prendere il midollo per farti questa questa puntura dolorosissima non sapevo a cosa andavo incontro praticamente pensavo che fosse va bene una punturina così quasi un'ora per fare questo epidurale vi ho detto tutto perché io ho la colonna vertebrale storta e praticamente io ho la scoliosi non so se ve l'ho mai detto vabbè comunque non è questo il punto praticamente loro per centrare la colonna vertebrale una uguale allora praticamente questo dottore che doveva farmi l'anestesia mi fa una cosa come 5-6 ma forse anche di più punture sbagliando sempre non prendendo mai ogni volta sentivo dolore lui sbagliava vi giuro io ero in lacrima disperata io pregavo vi giuro io nella mia mente io pregavo solo una dottoressa bravissima davanti a me perché poi in tutto questo io dovevo stare così ma all'improvviso mi arrivavano anche le contrazioni quindi quando ti vengono le contrazioni ti ho all'istinto di stenderti e di metterti in questa posizione perché il dolore è forte quindi ogni io mi mettevo così loro trovavano la posizione poi mi arrivava la contrazione la contrazione la contrazione c'era una scena tragicomica una delle dottoresse le faccio particolarmente pena secondo me però lei era veramente brava le mando ancora a benedizioni la voce fuori dal coro praticamente lei si mette davanti a me e mi dice fammi tutto quello che vuoi sì ti capisco anche io ce l'ho passata tutti abbiamo partorito sono qua fammi quello che vuoi quindi io la stringo la faccio in tutto questo praticamente questa è una cosa che la devo raccontare mentre praticamente lui mi fa una puntura sbaglia per l'ennesima volta sbaglia mi parte perché praticamente evidentemente prende un nervo mi parte la gamba cioè la mia gamba praticamente parte così mi parte la gamba la mia testa fa così e sulla mia testa c'era la testa della dottoressa la dottoressa boom praticamente è una botta in testa la dottoressa la dottoressa si fa male e lei mi dice che sente il sangue in bocca che quindi si è fatta male boom non è scena tragicomica comunque lui che sbaglia io mi sono portata questo dolore nella gamba oltre ai postumi del post parto per tipo 15 giorni dolore nella gamba perché lui aveva sbagliato vabbè tutto bene è andato tutto bene dalino sta bene non ci importa non fa niente però per dirvi può succedere tutto e tutto quello che succede in sala parto in sala travaglio nessuno lo saprà mai lo porterete con voi nella tomba ragazzi vabbè comunque in tutto questo io pregavo io piangevo pregavo e gridavo e pensavo pensavo non mio dio un incubo non può essere vero un incubo non è la realtà ti sembra di vivere un film horror uguale io poi sola senza nessuno vabbè in tutto questo riescono finalmente a farmi questa benedetta puntura dolorosissima comunque me la fanno mi riportano in sala travaglio non fa subito effetto l'epidurale e infatti all'inizio pensavo che ormai ero proprio sotto shock pensavo che fosse finto io stavo proprio in panico e quindi piangevo dicendo che loro non me l'avevano fatto mio dio non è vero mi stanno dicendo bugie e invece dopo tipo 20 minuti a effetto e quindi inizio a non sentire più le contrazioni inizio a non sentire più le contrazioni e là inizia una cosa bellissima perché praticamente non si sente più il dolore però bruttissimo perché praticamente non sai quando devi spingere cosa drammatica non sai quando devi spingere quindi come cavolo fa questo bambino ad uscire ditemelo cioè secondo voi come fa ad uscire un bimbo che tu non senti più le contrazioni in più mi viene tipo una reazione allergica e mi inizia a prudere dappertutto perché praticamente c'erano tipo degli oppiacidi delle cose dicono che causano queste irritazioni quindi mi mi gratto a sangue dappertutto e e comunque ragazzi in tutto questo mi danno la palla cercano di farmi spingere cioè loro mi dicevano quando arrivava la contrazione spingi però io non sentendo più nulla sotto quando spingevo mi dicevano spingi come devi fare la canca e invece spingi come usciva la pipì quindi c'era qualcosa che non andava e e niente con ragazze comunque devastante fin quando dopo un bel po' di tempo mi ho guardato perché questo bimbo non usciva proprio in nessun modo anche spingendo mi portano in sala parto e e là inizia il parto fanno entrare Dario quindi Dario non ha visto nulla del mio sperpetuo fanno entrare Dario che assiste a parto quindi al momento praticamente dell'espulsione lui ha quello assistito dove praticamente io spingivo loro mi dicevano io spingivo loro mi dicevano io spingivo fin quando il dottore ha la brillante idea di posizionarsi lui con le sue braccia e tutto il suo peso sulle mie costole sul mio stomaco qua e io pensavo che mi avessero rotto tutte le costole vi giuro io piangevo perché dicevo questo dottore questo bimbo non esce oh mio dio lui per aiutarmi ha fatto questa cosa io mi dovete credere io cioè io ringrazio le ostetiche il ginecologo tutti perché veramente senza di loro non so qualcun altro mi avrebbe sicuramente tagliato fatto il cesareo e lui con questa cosa mi ha aiutato perché nel momento in cui io poi ho spinto lui mi ha spinto in questo modo io vi giuro io gridavo come se sgostassero un maiale perché pensavo me ne avessero tutte le costole ho sentito un dolore atroce forse più delle contrazioni vi ho detto tutto prima esce la testa rifacciamo il tutto io spingo lui preme io grido io sto per morire esce esce il bimbo e ho portato questo dolore nelle costole ragazze per un mese un mese ho sti dolori dei punti perché poi a un certo punto io sento loro che dicono lo fai tu lo faccio io oh mio dio capisco mi devono tagliare io a piandere vi prego non mi tagliate vi prego non è necessario farlo mi tagliano non sento nulla cosa importante ragazzi mi devo muovere sto spegnendo la videocamera non sento nulla se si dovesse spegnere vi saluto così però continuo fin quando dura e poi ve ne faccio l'altro promesso mi mando anche un bacino vabbè ma perché solo io sono strana qua su youtube tutti normali sono pazza vabbè comunque ragazzi mi tagliano non sento nulla quindi tranquille l'episiotomia se non erro non si sente nulla comunque danni l'esce con mille aiuti mille cose dare l'esce ed è un momento bellissimo emozionante anche se io stavo sotto shock ma avevo tipo drogata cioè non capivo nulla però ero felice il dolore non passa subito a tirare ve lo mettono in braccio un'altra bugia che dicono le donne però è bellissimo e se ci penso adesso col segno di poi che lui adesso mi capisce mi guarda mi sorride è bellissimo quel momento in quel momento non me lo so goduto perché io soffrivo ancora poi mi dovevano mettere i punti per metterli i punti e pulirmi l'utero mi addormentano mi fanno una piccola anestesia quindi ho portato anche i postumi dell'anestesia ho detto tutto